Ciao a tutti da Vittorio, visto che il campionato è bloccato fino al 3 aprile, proviamo questa nuova rubrica, questo nuovo gioco, ditemi se vi piace ovviamente, mettete i like ovviamente se vi piace, facciamo questo quiz Lazio, paio di domande partendo da quelle più facili a quelle più difficili per vedere la vostra lazialità. Allora, scrivete nei commenti le vostre risposte e poi cercherò di vedere se avete risposto giusto o sbagliato. Le prime sono abbastanza facili, quindi valgono un solo punto. Allora, partiamo con la prima domanda, attenzione ragazzi concentrati e mi raccomando non barate, non cercate la risposta su internet, mi raccomando, mi fido di voi. Prima è facilissima, quanti gol ha segnato Ciro Immobile in questa stagione? Ok? Questa stagione, questo campionato. Chiaro? Che numero di maglia aveva Valon Beriscia quest'anno con la Lazio? Sapete che il Kosovaro è andato via, però quest'anno ha giocato con la Lazio e aveva un numero di maglia. Scrivetelo nei commenti. Chi è il terzo portiere della Lazio di quest'anno? Quindi ovviamente non parlo di Stracoscia. Chi è il terzo portiere della Lazio quest'anno? Bene, queste domande valgono tutte un punto. Saliamo un po' di livello. Lazio-Vicenza ha una partita storica per i laziali, importantissima, fondamentale. Sappiamo tutti chi ha segnato quella domenica, ma io vi chiedo, Chi ha fornito il pallone a Giuliano Foriolini? Non facile, eh? Attenzione. Altra domanda da due punti. C'è un giocatore nella storia della Lazio che ha segnato tre gol su punizione nella stessa partita? Nella stessa partita. Se sì, chi e in quale partita? Altra domanda da due punti. Chi segnò nella finale delle Coppe delle Coppe Lazio-Maiorca, i due gol della Lazio? Ve li ricordate? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Vale due punti questa. E passiamo alla domanda bonus. Questa vale quattro punti, però la dovete fare tutta giusta. Quattro punti, eh? Vale tantissimo. Chi segnò nella partita Lazio-Regina 3-0? L'ultima dell'anno dello scudetto. Tutti e tre i marcatori in ordine di marcatura, voglio, eh? Questa è bonus, eh? Vale quattro punti. Ok? Rispondete nei commenti qua sotto e poi vi do tempo un giorno e poi annuncerò la classifica di questo gioco. Fatemi sapere se vi piace così possiamo ogni settimana fare dei nuovi quiz e aggiorniamo la classifica. In più vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram dove parliamo di Lazio tutto il giorno. Ciao, alla prossima.